Questa è un rinno alla libertà! Ehi, ma sono tutti fissati con questa libertà? Beh, libertà vuol dire niente regole. Ed io creò l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Li creò unici e liberi e poi diede loro i dieci comandamenti. Ma non avevamo detto senza regole, eh? Questa storia parte da lontano, da un uomo che speranza ha donato. Mose era il suo nome e il popolo ebraico ha liberato. Niente più schiavitù, niente più sofferente. Le acque egli aperto e con i suoi attraversato. Ma c'è un numero che dà forza, che dà vita, che dà gioia. Dieci, il numero perfetto, per vivere alla grande, per dire faccio la mia parte. Dieci, per apprezzare, ripetare, per amare, dolorare, per seguire, ma essere libero. Tu, Montedio, le hai parlato, che il comandamento ha ricevuto. Al suo popolo ha tramandato, fino ad arrivare a oggi. Ma c'è un numero che dà forza, che dà vita, che dà gioia. Dieci, il numero perfetto, per vivere alla grande, per dire faccio la mia parte. Dieci, per apprezzare, ripetare, per amare, dolorare, per seguire, ma essere libero. Ma cosa significa questo dieci? Vi svegliamo noi il segreto. Orecchie bene aperte. Uno, un unico dio. Due, non nominarlo in vano. Tre, santificare feste. Quattro, onora madre e padre. Cinque, non uccidere. Sei, siate puri. Sette, non rubare. Otto, non mentire. Nove, non la donna d'altri. Dieci, non la roba d'altri. Dieci, il numero perfetto, per vivere alla grande, per dire faccio la mia parte. Allora, credevate che avere delle regole fosse un limite? Sono la chiave per vivere in armonia. Basta poco e tutto cambia. Basta poco e la vostra vita può diventare una vita migliore. Una vita da sballo. Basta poco e tutto cambia.